Ma pesa una persona che non ha niente in tasca, a zero euro, ad andarsi a trovare un lavoro, per esempio, voglio andare a Milano, voglio andare a Parma, come faccio? Devo trovare un posto dove dormire o devo dormire con la strada? Ma siamo preparati per il tuo discenso? Certo, però pure battere sul microcredito, come aziende, soldate lavoro. La gente crede che 780 euro da stare a casa, non è così, perché la legge del momento è fatta appositamente per non fare questi accenti e non stare a casa. 8 ore alla settimana di lavoro, presentarsi ogni mese al centro di piega, fare formazione, eccetera, eccetera. Non è assistenza. E poi, altresa rifiuto, perdono... E' una delle azioni che è veramente... Invece in TV sembra le stesse cose... Bruno Vespa che ci attacca... Poi la gente sta a casa... Cioè, perché non dicono la verità? Perché non è così la legge, perché noi abbiamo letto... Questo è il dovere nostro, il formale... Ognuno... Cosa ha detto, se ti nasce di casa, non capisce... Se non capisce... Inna, un goccino di caffè! Inna! Un goccino di caffè! Inna, un goccino di caffè! Inna, un goccino di caffè! Quella è mi piace per far sentire, meno a confesso! No, ci stai quell'ombra è meccolo, con l'arzo cacquero! Inna, un goccino di caffè! Grazie! Minà, ma non ha accattato, non lo so, non lo so... Ma non lo so! Ah... Grazie. Grazie a tutti. 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 Siamo già in registrazione video, basta che se clicchi sulla macchina fotografica ci fai una bella fotografia. Buona bella fotografia, tutto il gruppo qua. Forza. 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 una informazione, però man mano che andiamo avanti nel periodo... Certo, certo. Anche la visibilità, la sua importanza? No, ma io diciamo perché... Perché queste zone ce le stiamo facendo? Certo. Ma poi anche a livello informativo, magari condividendo pure con un semplice video, comunque tu cerchi un pochettino anche di mantenere sempre un po' informati, un pochettino tutti quanti, chi magari tramite l'internet... C'è un casetto già montato, accendo massi di bus, di saluto... No, poi comunque si fermano che chiedono un'informazione. E spesso con le macchine ci vedono? Certo, certo. Un punto di riferimento almeno informativo, ma anche se ti vogliono solo semplicemente salutare, comunque vedono già una figura, come posso dire, a loro familiare. Certo, certo. Il fatto di sapere che tu ci sei, ci sei, è veramente importante. Certo, certo. Ma è un po' quello che abbiamo detto anche noi recentemente al Gazebo a Piazza Caribaldi, di dire, guardate, noi siamo sempre in mezzo ai cittadini, non è che soltanto per il periodo elettorale e poi non ci vedete più. Cioè noi è finito, ma noi stiamo sempre insieme a voi. Perché poi sostanzialmente comunque la nostra, diciamo, comunità è fatta di cittadini, insomma, non di persone, di politici navigati. E quindi loro questo fatto lo avvertono in un modo positivo. Perché poi ci sta la persona che, diciamo, si viene a sfocare, chi viene a chiedere un'informazione. Però ti vedono, ti vedono con il Gazebo e quindi, insomma, comunque cercano di fermarsi praticamente. E Simone, riscrivi cosa dobbiamo fare. Quando? Proprio per rimanere a contatto con i cittadini. Credo che fare iniziativa come pulire i giacinetti oppure un barco, credo che sia una buona iniziativa che ci sta dire che noi siamo impegnati. Anche senza chiedere conti. Che noi non chiediamo conti. Diamo alla gente di informarsi. E di partecipare. E di partecipare. Se adesso mi fai questione che abbiamo un palazzetto che diciamo al palazzetto. Con un palazzetto che abbiamo lì. Se ci giriamo... Perché non si gira al palazzetto dello scorso quale. E la metà è la metà di cittadini. Delle erbacce che si può utilizzare. Dentro la pittà. Metà è utilizzata da loro. Con partecipare. L'altra metà è proprio abbandonata. Le erbacce sono diventate alberi. Potremmo pulire per le persone che vanno a correre. Cioè i potrebbero fare molte cose. Si, si, si. Otto. Io non ci puoi andare a lavorare. Lo spiegare a questo signore. Io ho portato ad Steve. Quello mi ha capito Piacini. Piacini. Ma... Ma ma perché non trovo questa nuova di Piacini. E poi non ti fai passato. Piacini era praticamente che Era del... erbaccio di Piazza, no? Ci cazzo è un arti. Ma non puoi avere... Ma quello non è un piacere, quello è un diritto, quello è un diritto, non è un piacere, non lo devi dire perché è nessuno. Eh ma non per fare la prossima volta voto, ma la prossima volta voto anche la prossima volta. E dove ne metto in testa? Quello non è un piacere, ma è un vostro diritto. Quelli lo fanno apposta. Ecco, vedi a cosa serve la presenza? Quelli li fanno apposta, non mandato. Non ci ha visto se è vendito, perché alla fine chi vota questi personaggi? Senti, lo fanno, lo fanno. Come funziona? Allora, come funziona? Il comune, quando tu vai a chiedere una cosa al comune che hai una perdita in casa, loro lo fanno apposta a non mandarti le persone da giustare, lo sai perché? Perché tu devi chiedere il favore al portavoti di turno, quello ti prende, ti prende, va a chiedere lui. Ti mandano le persone che ha fatto il favore e tu dopo gli dai il voto che quel voto andrà proprio a quello che non ti ha mandato le persone. E poi in questi periodi c'è il favore della disperse. E' ovvio, ma non vengono le persone. E' palese che credo. Voi credete che votando risolva la situazione del nostro paese, il favore e tutto? Sì, e qui vi sbagliate. Perchè loro appena saliranno sulle controlli lasceranno i loro به eletane sulle controlli e non vi penseranno proprio più Deve e sei già! Allora ci vuole fatto quindi non si fa... Cosa si fa 40 anni a made. Qua rvincia è non stato 40 anni a make.